Torna ETG più sindaco. Da domani e ogni venerdì sera alle 20.10, dopo le rubriche in coda al telegiornale, gli studi di espansione TV diventeranno un'estensione di Palazzo Cernezzi. Alla scrivania siederà infatti il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, con un giornalista a rotazione della redazione di ETV. Mezz'ora di dialogo in studio e con i cittadini a casa che potranno intervenire telefonando allo 031 33 00 655 o inviando un messaggio whatsapp al 335 70 84 396. Segnalazioni, domande, problemi, idee e spunti. ETV crea una linea diretta tra i cittadini e l'amministrazione per consentire al pubblico di dialogare direttamente con il sindaco e al primo cittadino di raccogliere le istanze dei comaschi. Una trasmissione di servizio e informazione nel pieno spirito di ETV che connette il territorio e dà voce ai cittadini. ETG più sindaco ogni venerdì alle 20.10 su ETV.